Sono gravissime le considerazioni messe nero su bianco da Plinio Bartiromo all'atto delle sue dimissioni da coordinatore del piano di zona dell'Agro Nocerino Sarnese. Due pagine fitte fitte di elementi critici che tutti assieme contribuiscono, scrive Bartiromo, a impedire la corretta gestione amministrativa, contabile e funzionale del piano di zona. E allora cerchiamo di entrare nel dettaglio e vediamo quali sono queste gravi irregolarità. Ho constatato, scrive Bartiromo, che ogni attività burocratica amministrativa, anche quella più semplice, è costellata di ostacoli ed insidie che impediscono il conseguimento di un risultato concreto ai cittadini del nostro ambito. Ho rilevato, continua, che non risulta agevole coniugare le attività del piano senza avere, nello stesso tempo, il supporto irrinunciabile di professionalità provenienti da tutti i comuni. Manca chiarezza, scrive Bartiromo, sull'attività gestionale e contabile relativa agli anni precedenti, liquidazione di fatture effettuate da persone a ciò non autorizzate, in quanto non assegnatari del PEG, che per legge viene assegnato ai singoli responsabili. Poi, sinceramente, scrive ancora Bartiromo, non sono riuscito a capire come si pone l'istituzione Scafati Solidale rispetto alle attività del piano e quale sia la situazione debitoria dei comuni nei confronti del piano di zona stesso. Dopo un mese non sono stato posto nelle condizioni di avere un resoconto della situazione contabile, sia per quanto attiene il pregresso che per il presente. Non è mai stato fatto un verbale di consegna da parte del predecessore e solo ieri ho scoperto, scrive Bartiromo all'atto delle dimissioni, che un congruo numero di persone, circa 40, sono contrattualizzate con la Tempor, società di lavoro interminale, e che solo pochissime di queste prestano la propria attività negli uffici di piano. Ma il giacuse di Bartiromo non finisce qui. Sono stato costretto, scrive, a raccogliere le lamentele di fornitori, di lavoratori e di prestatori di servizi che reclamavano legittimamente il pagamento di fatture arretrate relativi all'anno 2013, in alcuni casi anche per anni precedenti. Ma il piano, scrive Bartiromo, non finisce di stupire, getta un'ombra su come è stato fin qui gestito. Tanto per fare un esempio, e stiamo leggendo testualmente, un mese fa non funzionava nemmeno il sito internet. Da alcuni giorni i telefoni risultano staccati per morosità e la Xerox, fornitrice Consip, ha disdettato sempre per morosità il contratto di noleggio delle macchine fotocopiatrici. Per tutto questo, Bartiromo si dimette, rassegnando dimissioni irrevocabili da coordinatore del piano di zona, in coda alle due pagine, un'ombra che forse sarà raccolta dagli organismi competenti. Mi corre l'obbligo di porre l'attenzione del coordinamento sulla certezza che esista sempre una valida struttura che sia in grado di evitare pagamenti doppi ai nostri fornitori.